Oggi in apertura il nostro collegamento in diretta con l'Imbiata che in questa settimana è Anna Di Giorgio e con Anna Di Giorgio andiamo a Scafa dove è in allestimento un centro vaccinale importante perché dovrà servire tutta la Val Pescara o almeno la media Val Pescara, si parla di circa 17 comuni ma per saperne di più e anche per sapere un po' a che punto sono i lavori e conoscere anche gli ospiti intervistati da Anna Di Giorgio e mi collego in diretta proprio con Anna Di Giorgio. Buongiorno Anna, è così? Dico bene? Buongiorno Marina, sì è così come dicevi tu questo centro vaccinale Val Pescara che è in allestimento lo vedete dalle immagini della telecamera di Andrea Berardinelli servirà circa 17 comuni della Val Pescara per un totale di circa 33 mila abitanti di questa zona. Si pensa di partire da qui ma evidentemente si andrà avanti anche poi pensando di poter implementare ulteriormente questo centro che sarà nevralgico di tutta quest'area. In questo momento potete vedere gli uomini e i mezzi della protezione civile, in particolar modo al lavoro ci sono i volontari dell'Associazione Nazionale Alpini per la sezione Abruzzi e i militari del nono reggimento dell'Aquila, Battaglione Vicenza, che stanno cercando di tirar su proprio quelle che saranno le strutture adibite all'accoglienza diciamo amministrativa dove si svolgono tutte le pratiche diciamo burocratiche amministrative precedenti alla somministrazione del vaccino e poi ci saranno ovviamente le strutture che saranno adibite per la somministrazione vera e propria dei vaccini. Si tratta di un'area di circa 600 metri quadri che è di proprietà dell'Italcementi che si trova nel comune di Scafa ma che è stata messa a disposizione proprio per consentire di dare una forte accelerata alla campagna vaccinale. La ASL di Pescara che poi ovviamente sarà impegnata nella somministrazione vera e propria nell'organizzazione della somministrazione dei vaccini conta di somministrare ben 120 vaccini all'ora per un totale di 800.000 vaccini al giorno quindi capite bene che si punta molto su questo centro proprio per cercare di velocizzare le operazioni relative alla campagna vaccinale. Insomma noi questa mattina abbiamo intervistato il sindaco di Scafa che è Maurizio Giancola insieme anche al presidente della sezione Abruzzi dell'ANA che ci hanno spiegato un po' come si stanno organizzando in quest'area e se sei d'accordo Marina dopo l'intervista che adesso manderemo in onda io e Andrea Berardinelli ti potremmo anche restituire la linea. Benissimo Anna, perfetto così, allora mandiamo le interviste, buon lavoro a te e ad Andrea Berardinelli. Maurizio Giancola, sindaco alpino in questo caso del comune di Scafa siamo nel piazzale dell'Italcementi, anche il comune è impegnato per la realizzazione di questo importante centro vaccinale qual è stato l'impiego delle vostre forze per la realizzazione di questo centro? L'impegno è stato notevole ma con grande soddisfazione noi quando abbiamo ricevuto la richiesta di un'area da parte della protezione civile ci siamo attivati subito con l'Italcementi e devo dire che con grande sensibilità nel giro di mezz'ora mi hanno dato la disponibilità dell'area abbiamo provveduto naturalmente alla sistemazione di questo piazzale perché era un piazzale di fatto non più utilizzato dall'Italcementi da oltre 8 anni quindi manutenzione delle scarpate, pulizia, abbiamo posto in opera asfalti per sistemare meglio l'area abbiamo riattivato le torri faro, abbiamo risistemato la rete fognaria quindi un lavoro di logistica in preparazione di quello che poi la protezione civile e gli alpini avrebbero dovuto fare in seguito devo dire in verità che sono anche giunti in nostro soccorso sia gli alpini del nono reggimento L'Aquila, battaglione Vicenza sono giunti in nostro soccorso molti volontari che sabato si sono adoperati quindi una grande mobilitazione di imprese e di cittadini affinché questo centro diventasse realtà centro ribadisco che ha sede a Scafa ma è il centro della Val Pescara servirà a 17 comuni per una popolazione di circa 33.500 abitanti un ringraziamento non posso che spenderlo per la protezione civile Ana A proposito abbiamo proprio Pietro D'Alfonso che è il presidente della sezione Abruzzi dell'Associazione Nazionale Alpini quanto vi state impegnando anche voi? Qual è l'impegno di mezzi e uomini della vostra associazione per portare a compimento quest'opera? Allora l'associazione Abruzzi sta partecipando nelle linee vaccinali in Abruzzi con circa 250-300 volontari qui su Scafa siamo intervenuti con una media di 35-40 volontari durerà circa una settimana e pensiamo che nella prima decada di maggio possiamo dare disponibile l'area Come ultima battuta Sindaco Giancola oggi qui parliamo del centro vaccinale della Val Pescara però questo è anche un trampolino di lancio per far sì che quest'area torni ad essere vitale anche in funzione di altro, ci diceva? Certo, come ben sa sono 8 anni che la fabbrica è chiusa è un motivo per riaccendere gli effettori sulla nostra zona Grazie